Roberto Pitaluga, presidente della San Piero d'Arenese, 70 anni e con una festa qua al Morgavi. Eh sì, dai, come ogni anno presentiamo le nostre leve, che ogni anno sono sempre più numerose, e quest'anno è un anno speciale perché facciamo 70 anni della squadra dilettantistica, e quindi è una festa doppia quest'anno. Nei primi due anni siamo cresciuti molto numericamente, abbiamo rapportato la San Piero d'Arenese a dei numeri che erano adeguati, diciamo, al blasone della società. Adesso per noi è proprio difficile mantenere questi numeri e soprattutto migliorare a livello di qualità, di prestazione. Abbiamo delle leve molto ben preparate, stanno crescendo bene, speriamo di vedere questi ragazzi tra qualche anno in prima squadra. Anche allenatori preparati avete? Sì, ecco, grazie alla domanda, perché anche questo per noi lo stiamo cercando, quello di crescere dal punto di vista della qualità del servizio, dell'offerta dal punto di vista degli allenatori. Abbiamo dei ragazzi laureati in scienza motoria, ovviamente patentati UFAB, e quindi la ricerca è sempre su persone di qualità, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano. Poi non ci dimentichiamo, soprattutto sui più piccoli, che comunque abbiamo anche un ruolo sociale ed educativo, che per noi è molto importante. Abbiamo creato un nuovo sito internet, dove cercheremo di aggiornare il più possibile le classifiche, i risultati, sia dalla scuola calcio che dalla prima squadra. È un sito abbastanza interattivo, quindi c'è la possibilità di vedere la galleria fotografica, è connesso con tutti i social, e quindi speriamo che sia una bella cosa, soprattutto per i genitori che ci seguono, per i sostenitori.